E' incredibile, fantastica, il mio sogno, ho fatto 15 anni, questa cosa è divertente, è un regalo, mi sono successe tante, una che mi riguarda, poi magari mi non c'è la sua, c'è la scena in montagna da vecchio, abbiamo fatto l'invecchiamento 5 ore e mezza, andiamo in montagna, non si poteva girare, era tardi, mi hanno detto ti va, di dormire invecchiato e domani mattina non ti stucchiamo, non ti ritucchiamo e vieni direttamente sul set già con invecchiato, e ho detto va bene, arrivo in albergo e mi hanno messo questo asdraio, il cuscino, quindi io sono dovuto rimanere tutta la notte così, nel momento io ero stanco perché venivo da comunque già parecchie mesi anni, nel momento in cui mi addormentavo, mi si appassava la testa e siccome c'era la colla dietro, sentivo tirare e mi risvegliavo, quindi non ho dormito niente e lì domani avevo gli occhi talmente vecchi che era perfetto, insomma la scena, o almeno mi ha aiutato un po' a entrare in quella fatica del personaggio. Żi Grazie a tutti